ATP della Val Gardena, sempre a margine del tabellone del doppio. Siamo qua con David Kostner e Patrick Prinot che hanno perso contro i croati Mektic e Sancic. 6-2, 6-2 però la siete giocata? Sì, ci siamo giocata, abbiamo fatto qualche errore di troppo, abbiamo regalato un po' nei momenti che potevamo fare il punto e abbiamo preso lì potevamo fare più game. 6-2-6-2 sembrerebbe a senso unico, però un paio di giochi si poteva fare di più, sì, si poteva fare di più, però nei momenti decisivi magari forse loro sanno cosa fare, facevano il punto loro. Più delusi per l'andamento dei singolari o di questo qua del doppio? Io decisamente più singolare. Tu anche? Sì, anche perché il singolare è un giocato molto meglio che il doppio. E adesso? finita la stagione, allenamento pesante? Sì, adesso inizio l'allenamento pesante, sì. Ok, allora buono sforzo. Grazie. Grazie.